Un presepe all'aperto è stato realizzato a Villalba per questo 2018 in prossimità dell'arrivo delle feste natalizie. A realizzarlo, con spirito di collaborazione e di amicizia, è stato il gruppo di volontari dell'oratorio parrocchiale Beato Pier Giorgio Frassati, che si sono prodigati con entusiasmo e fantasia per il suo allestimento mediante oggetti della civiltà contadina, gentilmente messi a disposizione da persone che li avevano custoditi in casa. Va sottolineato che ha contribuito alla realizzazione del presepe la collaborazione degli impiegati comunali che hanno provveduto al montaggio della capanna e al trasporto dei vari oggetti da sistemare nel presepe che sarà acceso il prossimo 8 dicembre, subito dopo la processione dell'Immacolata, insieme all'albero di Natale. A Villalba, dunque, aria di feste. A Villalba, dunque, aria di feste.